MULTIPLAYER GAMETIME Nel corso del video ragazzi vedrete i vari tentativi che abbiamo fatto per cercare di fare delle partite decenti con scarsissimi risultati però vi posso assicurare che quando vi abituate un po' a quel mondo e quindi il senso di nausea un po' vi passa è divertentissimo lo vedrete anche dal video è fantastico ragazzi lo scopo del gioco era veramente semplice bisognava fare gol nella porta rettangolare posta alla fine del campo avversario era un 3 contro 3 e ovviamente essendo tutto questo in gravità zero bisognava anche muoversi con dei propulsori posti all'interno del polso sicuramente più facile a dirsi che a farsi però decisamente divertente sei imbarazzantissimo ciao ragazzi no io sto guardando direttamente con le riprese ma guarda lo schermo ma ragazzi ma che cosa stai facendo fammi una dab non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo ma quindi io da qua posso tirare così tipo mo sono uno smircio ho fatto un gol almeno nella vita mia ho capito perchè abbiamo perso prima perchè? perchè è colpa tua non ci credo Grazie a tutti Ai più bravi del torneo ragazzi Sono stati regalati Quei tre processori E' inutile dirvi che Ne io ne gabbo abbiamo avuto niente Ma questo insomma si sapeva Per il resto ragazzi da Mars è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Ciao